L'Italia ha una diversità di cultura che ha servito a casa di un continente e che ha messo di secoli per svilupparsi, fraude dell'armonia tra l'am e la legge naturale e che ha già performato alla luce e della rivelazione, la fête cattolica. Ma l'Italia ha detto che l'esteta omogenea dalla cultura consumista, una cultura omologueta, falsa e spazzatura. Vluda dal potere, falsa per chi si lancia da sodalette e dunque la mia espressione è un concetto autentico, ma dunque artificiale. E la falsa anche per chi va a lavorare la scotchadra come l'edonismo consumistico e stampa oggi dal passaggio da qual è conto ad abbono in taveta, che ha raggiunto a fare col materialismo. La spazzatura anche per chi va a lavorare i valori consumistici e corrompa l'esistenza, per farsi diventare dal caver e pensare in teter e consumare. Al risultato, le calnare d'Italia, attacchere dal bombe economico, la veste un degré d'antropologico senza fine, e dove la popolazione laburè la sua cultura millenaria, pertorso che la cultura falsa e spazzatura è stampa americana, frotta velenè e della rivoluzione. Una rivoluzione da raiz antica, principiata in tal 1517 col protestanteisom e arriva da maturazione col liberalismo, che in tal 1717 ha sfamilitante con la fondazione e della maçonneria in Inghilterra, per finire con la rivoluzione di Tauber, dal 1917, l'ultimo cancro che ha vlein al Mante, e che la rivoluzione culturelle del Santot le niente teter e la sua continuazione in campo culturel. Nel protestanteisom l'elumos è tutta rivoluzione perché cambia la concessione e la verità, che l'avvim mia più intesa come l'adattamento dell'intelletto a real, ma comunque è soggettivo, e provi a inventare come avranno. Di fatto, al liberalismo al nasce in terra protestanta, accè come il comunismo, e al nazismo al tacareis in Germania grazie al proletarie protestante. C'è che dopo il secolo e la rivoluzione, pian pianem, la cristianità, o l'Europa, la passa dall'essere al centro del Mante a conter più niente. Dopo il disastro e la rivoluzione francese, che arriva fino ad abolire il cristianesom in tal 1793, i rivoluzionari capessano e che la forza le mia la maniera giusta per cercare via la società dalla verità. e che vuole un processo graduel per cambiare la cultura e la popolazione, e dunque ha vuole la pazienza. Le accèchi rivoluzionari si fanno mudare, per capire il nome e liberare, e nirà parte col sistema monarchic, come le alcheze del Piemonte, in dove un povero stè cattolico, che ha fatico a camper, schissato tra le superpotenze, ha diventato un stè bambos per distendere la rivoluzione anche in Italia, al cuore e dell'ordine tradizionale europea. Ma anche una volta fatta l'Italia, al spirito della rivoluzione, le rarmenze un quel delitare, e che fino al 1960, angliva mia cavetta attacchè a raiz in tal popolazione, che le rarmenze ha ben branqueda alla sua tradizione culturale. Ma col bomba economica, al mando contadene, al Vance Brandel, al contadene, a sua burghais. E grazie a massimidia sempre più evidente, l'edonismo consumestico aglacchèva attacchè a raiz in tal passant, per torre via al suo patrimonio culturale. As può parlare di un genocidio culturale, la sostituzione della cultura dell'Italia, che ha una cultura homologueta viva dal potere, edificata scientificamente contro la legge naturale, contro la verità, contro la civiltà occidentale, edificata in se mal diretti romani al pensiero greco che incatetano tutti i compimenti in la rivoluzione, e soli che la rivoluzione le arriva da maturazione. a che mette nanti oggi al regime liberale che ha il totalitarismo più perfetto che ha, perché trova mica la forza per far subdire, da man di fascista oi comunista, ma trova la manipulazione e della coscienza attraverso l'idonismo consumistico, che ha fatto il suo instinto più animalistico che l'uomo, per fare il servo dal consumo e dal vestito, in opposizione alla super spirituola, d'autore di ragione, un regime che predica una concessione felcia ed libertà, perché l'uomo è libero non è quando può fare qualcosa, ma quando è vive int la luce et creste, quando il gà l'avete et gracia, in chies contrari, l'euscero dal pchè. In un periodo che si è scur d'apostasia, al depositum fidei ed la santa accesa catolica larmant la luce dal mant, in sem ai sacramenti, che si dà l'avete et gracia. Di fatto, l'avete l'agacensi sa us le vissuda in un cammin vers la santificazione, l'esat contrari ed la logica dal mant.